A Crown Montana c'è soltanto lei in combinata, tre vittorie nelle ultime quattro combinate e quella che non ha vinta è arrivata a un secondo posto. Questa è Federica Brignone, Federica Brignone vince ancora, Crown Montana, Federica Brignone vince la combinata, disputando un ottimo slalom. E non era banale su quella neve e soprattutto non era banale per la grandissima match che aveva fatto la canadese Rem, che aveva battuto nettamente anche la campionessa del mondo di questa specialità, ossia Wendy Holden, che si deve inchinare e accomodare sul terzo gradino del podio. Infatti Federica Brignone è prima, un'altra vittoria nel Coppa del Mundo, un'altra meraviglia per Federica Brignone che adesso dà l'assalto anche alla Coppa di Specialità di combinata. Tra pochi giorni ci sarà un'altra combinata a Soci e speriamo che anche lì si renda protagonista, perché oggi veramente un'altra grandissima gara per la Brignone, grandissima discesa, ma anche slalom, ottavo tempo di match, ma comunque è proprio una scivolatrice. La Brignone che evidentemente ha comunque un grande legame con questa pista, anche lo slalom lo fa veramente bene, insomma ragazzi si è difesa benissimo anche in slalom e ha fatto davvero un grande tempo, davvero bravissima. Federica Brignone che ci dà un'altra gioia, insomma sta facendo davvero una grande stagione, sia in velocità sia in combinata appena cominciata, ma anche in, soprattutto in gigante. Insomma una Brignone che sta facendo probabilmente, sta disputando una delle migliori stagioni in carriera e oggi è arrivata un'altra perla. Se non sbaglio arriva la seconda vittoria in stagione per la Brignone dopo quella nello slalom gigante di Beaver Creek, quindi un'altra bella vittoria per la Brignone. Davanti alla Rem, ragazzi, la Rem ha fatto un grandissimo slalom davanti a una Oldner che evidentemente non si è trovata molto a suo agio su questa neve, che comunque era difficile da interpretare. Non era facile perché era una neve primaverile, piena di sale e non è facile affatto da interpretare. La Rem l'ha interpretata molto bene, nonostante la pista fosse rovinata, e la Oldner invece, da cui ci aspettavamo probabilmente di più sia in discesa sia soprattutto in slalom. Doveva assolutamente recuperare lo svantaggio, invece non c'è riuscita la nostra, sì no, la nostra è riuscita a vincere ma non è riuscita a recuperare lo svantaggio da Federica Brignone e dalla Rem. Vendi Oldner, che appunto si deve accomodare terza. Le altre italiane abbastanza lontane, anche se la Bassina è nelle prime dieci, brava Marta Bassina, che comunque anche lei in slalom si è arrangiata bene, e invece più lontane le due sorelle De Lago, ovvero Nadia e Nicole. Fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate, lasciate una valanga di un mi piace al video, condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Sempre forza di italiane, ragazzi appunto, l'ho detto anche nel video scorso, comunque lo ridico adesso, siamo a 300 iscritti, quindi voglio fare uno speciale, che lo volevo fare proprio sullo stesso modello di quello che avevo fatto per i 200 iscritti. Ovvero voi che mi facevate una domanda fuori dal mondo dello sport, che io svilupperò durante il video, e citerò colui che me l'ha proposta. Proponetevelo appunto nei commenti, e a questo punto ragazzi non ci resta che salutarvi, e arrivederci ragazzi, ci vediamo al prossimo video.